Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sto al mio campo a godermi un po' di sole mentre aspetto che arrivano i miei allievi e voglio parlare un po', ne approfitto, per fare un video sull'intelligenza del cane. Allora, prima di arrivare al concetto principale, diciamo, è necessario che io faccia un'introduzione. Allora, nel 1983 il buon Howard Gardner, psicologo statunitense, elaborò la teoria delle intelligenze multiple. Questo significa che ha scoperto nell'uomo la possibilità di sviluppare ben sette intelligenze, successivamente ne ha aggiunte altre due. Quindi, diciamo, nel corso della nostra vita noi abbiamo l'opportunità di lavorare e sviluppare queste nuove intelligenze per poter raggiungere anche una bella consapevolezza di noi stessi. Questa teoria si può estendere anche al cane, perché di queste nuove intelligenze quattro appartengono anche a loro e sono nello specifico l'intelligenza visivo-spaziale, l'intelligenza corporeo-cinestesica, l'intelligenza intraspecifica e l'intelligenza interspecifica. Questo significa che, se riusciamo a lavorare su queste quattro intelligenze con il nostro cane, sicuramente diamo un contributo fattivo su quello che può essere lo sviluppo di una personalità equilibrata, che raggiunge una consapevolezza di movimento e di coordinazione nello spazio, nella spazialità, anche corporea, facendo fare esercizi specifici e soprattutto intraspecifica e interspecifica. L'intraspecifico lavora con i conspecifici, quindi con altri cani. L'interspecifico racchiude tutte le relazioni con altri esseri viventi, che possono essere l'uomo e che possono essere tutte le altre specie di animale. Quindi, se si riesce a fare un buon lavoro di sinergia, almeno su buona parte di queste intelligenze, sicuramente avremo un cane più consapevole, più felice e più proattivo ad imparare da noi il più possibile. Ok, vi auguro una buona giornata, spero che l'ho trovato interessante e a presto. Ciao!